Assistenza specialistica per gli alunni con disabilità. Aumentano le ore di assistenza e si potenze il servizio offerto grazie ad un'importante sinergia tra l'amministrazione comunale di Eboli guidata dal sindaco Massimo Carillo e il disability case manager generoso di Benedetto e la regione Campania. Profigo l'incontro con le famiglie degli alunni che frequentano gli istituti superiori di Eboli per la consegna dei voucher per l'assistenza specialistica. Un servizio educativo ed assistenziale rivolto agli alunni disabili per fornire assistenza, garantire il diritto allo studio, favorire l'integrazione sociale, scolastica e la socializzazione promuovendo le potenzialità di ogni singolo alunno. Da 5 a 7 aumentano le ore settimanali di assistenza specialistica e da 5 a 15 aumenta il numero degli alunni ebolitani frequentanti le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio ebolitano che possono usufruire del servizio.